andiamo di qua invece di seguirlo seguiamolo c'è altro da recuperare cosa di strano no una nota toccami continuo a pensare che queste cose abbiano dei gusti un po' le tette mi trollano vedi andiamo di qua no è chiusa porca puttana porca puttana cos'è ma cos'è non lo voglio anch'io sto coso in casa allora non sto male per favore aiutatemi puoi vedere anche tu quello che mi è successo portami via da qua non voglio essere da solo non voglio rimanere da solo mi ricordo di aver lasciato la mia borsa nel bagno c'era qualcosa di cui tu hai bisogno adesso per favore vai lì sei davvero fortunato per essere sopravvissuto così tanto loro non mi hanno neanche guardato e guarda adesso va bene ma cosa mi segue questo coso qua ma perchè vabbè dai mi sento un po' diamo diamo un nizzi vediamo ecco no cosa succede adesso ah allora questo è praticamente il mostro che prima ha pisciato si è appoggiato lì poi però è riuscito a colpire gli elementi che devi insegnarmi anche a me a fare sti gesti vai cosa c'è c'è dell'acqua bevi bevi sede l'avevo detto prima e voilà pensavo fosse acqua questa è pensavo fosse acqua ma in realtà era altro la droga perché non muori direttamente perché ti svegli terzo piano bene siamo passati dal punto al terzo così l'ho visto ho visto due di loro come faccio ad essere ancora vivo mi sento ancora un po' stordito forse loro credono che io sia morto cosa c'era in quell'acqua eh io lo so la mia gamba sinistra sta sanguinando credo che dovrò uscire prima di perdere troppo sangue ho finito la torcia? ma che cazzo dici ce l'avevo prima una torcia ma invece i glow stick stanno andando più lentamente ma lagga ma ho preso schiaffi oh ma aveva tirato uno schiaffo sto coso ma che cazzo è? ma cos'è? ho preso schiaffi qua? una chiave qua? sicuro qua infatti perchè c'è il sangue eh solo che non è cattivero io non vedo un cazzo ho bisogno di nascondermi velocemente BAAAAAAA porca magna da puttana questo ha fatto male questo ha fatto male madonna si è fermato il cuore ragazzi ok sono morto in pratica devo rifare la stessa cosa mi sembra che ci fosse scritto che dovevo nascondermi il fatto che dove mi nascondo? non sono trovato cioè io ovviamente con la sfiga che ho non mi sono buttato in fa... è vero che mi prende a schiaffi ah proverò ad andare di... dove ho recuperato la chiave a sto punto vai 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 spingila nooo lo uccide mi prendi no 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 per favore no sono fermo ah io non lo guardo si è andato vero? andiamo verso l'ascensore chiuso? ma brutti manichini di merda no ancora i bagni uccidi coglioni nooo perchè mi sto trollando la chiave sono gigante cosa? nasconditi cosa cosa? mortacci la mamma beh ne ho una chiave ce l'ho devo tornare indietro non so dove però proviamo a vedere se sto giro mi apre questa si è lo seal questa grande ho lo seal devo colpirci i manichini mi sa vediamo si grande vaffanculo scheggia scheggia sento qualcosa dietro di me grazie a dio donna santa che ansia sto gioco di merda ok siamo entrati in un night club a sto giro oh si finalmente allora chiunque legga questa nota per favore corra all'ascensore qualcosa di disarmato è dentro l'ufficio e anche se non ha armi è pericoloso abbastanza da causare brutti danni a te per favore non ignorare questo messaggio vai velocemente all'uscita e corri vicino al prossimo edificio sicuro come perchè c'è un biliardo qua sto giro partitina ci starebbe non posso fare niente qua? c'è niente? no è grande siete simpatici guarda guarda non posso neanche passarci di qua una nota allora la porta è bloccata per motivi di sicurezza usa questo codice 25x3 più 5 ricordati di andare direttamente all'ascensore e dopo di uscire dalla porta stai attento 25x3 75 più 5 80 dovrebbe essere ora questo il codice cos'è? 80? questo vero? mi sa che devo anche viaggiare Vai dai dai dai... via 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 Era abbastanza facile dai... Ascensore Andiamo sempre la sensore No! Non c'è la sensore, mi l'hanno tolto... Acora! posso usare il drone per andare all'interno posso usare un drone ah, grande questo sono io, più bella faccia allora, cosa dice? allora, posso usare il drone per trovare delle medicine perché qualcosa non sta andando con la mia testa adesso perfetto continua che figata bene, vai, vai, passo attraverso i manichini di merda dove? ma cosa? come fai ad aprire le porte? il drone, dai ma stato? cosa dice? c'è scritto di divertiti ad essere un drone si, effettivamente è carino da usare anche perché mi sento più sicuro col drone che qua c'è una buota facciamo con me e qui c'è qualcuno morto ma tanto il drone ti sono? ti ho? ti posso usare? ti ho? ti ho? ti ho? la puttana dall'uscita, fatemi uscire è qua? si, guarda il mio mino, è qui il mio mino dagliele, non capisco dove devo andare non sono un coglione, devo prendere le medicine ma dai, ma va a cagare quindi l'ho preso che cosa? la neve? vedo la luce dov'è morire nella ventola dove è la ventola? si, l'ho trovata? che c***o, c***o di cane l'ho trovata madonna che c***o cos'è? come cammina? sei c***o addosso di questo? danna tua madre danna tua mamma danna tua mamma si, c'è l'ascensore finalmente va la finisce sto incubo di merda primo piano primo piano primo piano ok è quasi fatta bene perfetto vediamo vediamo non ti lasceremo andare so che ci tenete ste gelosi eh tu sei mio tu sei mio ma Yauza sei gelosa? morirai soffrendo però chiaro una chiave perfetto una chiave dove devo andare? qua no qua c'è una cosa che bussi di qua oh vorrebbe uscire dov'è? vai vai oh l'uscita è questa verde 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 corri 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 verde questa vai vai dov'è questa? vai 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 veloce veloce move the chair quei fatta inculare Madonna sei tu inculato madonna sei tu inculato madonna sei tu inculato madonna sei tu inculato brutto stronzo o oh sì grazie per aver lascia l'odificio e vai nel prossimo posto più vicino sicuro che sarebbe una stazione di benzina Assicurati di chiamare questo numero Grazie Andiamo Finita però I escaped Si Si cazzo Sono uno dei pochi fortunati Adesso ci è riuscito Nessuno è mai uscito vivo Non mi dimenticherò mai Gli orrori di quando sono venuto qui Nessuno lo saprà mai Non lo saprai mai quello che è successo qui Bene Finito ragazzi Shadow 2 Io devo dire che il gioco mi è piaciuto Ha saputo dare la giusta ansia E' bello I suoi jumpscare E' bellino come gioco Vi ricordo che è gratuito Io vi metterò il link in descrizione Se volete giocarci a casa anche voi Probabilmente non sarete storti come me Che ci volete giocare Però va bene E niente Vi ringrazio Spero tanto che il video vi sia piaciuto Ci vediamo alla prossima Un salutone al nostro reso